Politica Simone Valiante, la politica recente, lontana, dalle reali esigenze della gente e dei territori. Finanziamenti ai comuni, però per coesione, per tre comuni valdianesi, oltre un miliardo di fondi ciascuno, ma il 99% sono per la 2 del Mediterraneo. Caggiano, no alla vendita di alcolici agli under 16, l'ordina il primo cittadino. Laurino, nel weekend, decide di cicogne e sorvolano il piccolo borgo. Teggiano, Sala Gremita, per la presentazione del libro di Vincenzo Andriolo, promossa dall'Associazione Amodiano. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Uno News. La politica in primo piano. Il già onorevole Simone Valiante analizza i recenti fatti che hanno visto protagonista l'Italia, toccando inevitabilmente anche la provincia di Salerno. In primis fa riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova e di conseguenza dello stato delle infrastrutture viarie su tutto il territorio nazionale. Per Valiante, intervistato da Anna Maria Cava, la politica recente si allontana troppo dai problemi della gente e dei territori. Ma ascoltiamolo. Le persone si allontanano dalla politica oppure si avvicinano a chi vive la politica in maniera reazionaria, cioè di chi sposta l'attenzione. Oggi Salvini fa un abile lavoro di comunicazione perché non affronta ancora nel merito, poi ancora presto, per carità bisogna dargli tempo, però non si affronta le grandi questioni, l'emergenza lavoro, il grande tema della manutenzione del territorio. Io ieri ho lanciato un altro monito ricordando la mia interpellanza parlamentare di un anno fa, discusso col governo in aula, dove gli ponevo il problema della manutenzione del territorio e della rete viaria nazionale. Abbiamo questo fatto tragico di Genova che ha riportato l'attenzione. Ma le autostrade sono una parte della viabilità nazionale, poi c'è tutto il resto, la viabilità provinciale per esempio è il 70% della viabilità statale. Chi si occupa più di questi problemi? Questi sono problemi che riguardano la vita di tutti i giorni. Allora Salvini ha questa capacità di distrarre l'attenzione, la comunicazione del paese dai problemi veri ai poveri cristi che stanno su quella nave che diventa una battaglia di slogan e di sopravvivenza. Ma mentre lui fa questo e avvicina un pezzo di opinione pubblica, dalle altre parti non mi pare che ci sia granché. Quindi questo determina o l'allontanarsi dalla politica, come appunto lei diceva, oppure avvicinarsi a messaggi e slogan che sono più diretti, più immediati, ma che magari sono lontani anche dalle questioni concrete dei cittadini. E lì in mezzo c'è stata l'incapacità di un partito che oggi sta all'opposizione di rappresentare più le stanze della gente. Cambiamo argomento. Il sito voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Open Coesione, per rendere accessibili a tutti lo Stato relativo alle politiche di coesione in Italia e per conoscere i finanziamenti erogati, analizza anche lo Stato dei progetti per il Vallo di Diano. Secondo quanto riportato, i tre comuni Padula, Montesano e Casalbuono avrebbero ottenuto finanziamenti per oltre un miliardo di euro con i casalbonesi che avrebbero ottenuto vantaggi per oltre 800 mila euro pro capite. Ma vediamo i particolari del servizio. Casalbuono è il comune del Vallo di Diano che ha maggiormente beneficiato di fondi per infrastrutture e servizi. A comunicarlo il sito Open Coesione che analizza caso per caso l'utilizzo dei fondi europei e nazionali distribuiti sull'intero territorio. Il portale della sua analisi presenta anche una suddivisione che si basa sul numero di abitanti. Ed è proprio questo il dato che esalta il lavoro di Casalbuono che per appena 32 progetti presentati, tra il più basso numero se si considera che solo Monte San Giacomo si è visto finanziare meno progetti, cioè 27, per quota pro capite si trova ad aver battuto tutti. Per Open Coesione i cittadini di Casalbuono hanno ottenuto benefici per ben oltre 835 mila euro ciascuno, dato non eguagliato in nessun altro comune campano. 1 miliardo 32 milioni 440 mila euro di fondi destinati a Casalbuono. Addentrandosi però nella ricerca, ecco spiegato il perché. In realtà il 99% dei fondi sono relativi ai trasporti riferiti alla realizzazione del macrolotto dell'A2 del Mediterraneo del costo di 1 miliardo e 22 milioni di euro. È evidente quindi che al comune di Casalbuono e ai Casalbuonesi restano appena 9 milioni 785 mila 732 euro di fondi che pro capite dagli oltre 835 mila euro si arriva a 8 mila 335 euro. Un dato che rientra così nella media del Vallo di Diano. Così come rientrano perfettamente nella media anche i dati relativi ai comuni di Montesanno sulla Marcellana che con 43 progetti per il sito avrebbe ottenuto 1 miliardo e 36 milioni ma nella realtà i fondi pervenuti sono circa 13 milioni con 2103 euro pro capite. Idem Padula che a fronte dei 191.433 euro pro capite per 1 miliardo e 0,57 milioni secondo Open Coesione in realtà i fondi ottenuti sono circa 34 milioni 600 mila che passano a 6 mila 434 euro pro capite. Per ciò che riguarda invece nello specifico il numero di progetti finanziati si distingue Sala Consilina che ha presentato 164 progetti ottenendo oltre 39 milioni di finanziamento che pro capite diventano circa 3 mila euro a cittadino. Il comune che ha ottenuto un finanziamento più alto rispetto al numero di cittadini è Salvitelle con 17.608 euro pro capite. Il più basso è Teggiano che su 95 progetti presentati ha ottenuto 19 milioni 49 mila euro di fondi che rapportato al numero di cittadini equivale a 2.314 euro pro capite. La cronaca incidente questa mattina a Sant'Arsenio sulla strada provinciale Teggiano Polla lo scontro è avvenuto fra una moto e un'auto ad avere la peggio il ragazzo in moto un 26enne di San Pietro Altanagro sembra che l'automobile con a bordo due persone per immettersi sull'arteria provinciale provenendo da una stradina di secondaria non è riuscita ad evitare lo scontro il ragazzo è stato portato all'ospedale Luigi Curto di Polla però non sembrano gravi le sue ferite. Cambiamo argomento il commercio in Italia sono dati positivi quelli che vedono un incremento consistente dell'acquisto soprattutto a livello online un commercio dunque nuovo in cui si specializzano e nascono nuovi equilibri e in cui sono tante le imprese giovani che ci entrano ma vediamo i particolari nel servizio. E' in aumento il commercio che si espleta su internet un'impennata considerevole registrata soprattutto al nord Italia dal 2013 al 2018 in Italia invece lo sviluppo è stato del 68% numeri alti per le imprese specializzate nel settore del commercio online sono infatti 17.432 e crescono del 9% in più in un anno e del 68% in 5 anni. Il 24% delle aziende che vendono in rete cioè quasi una su quattro è giovane e circa il 10% in mano a imprenditori che provengono dall'estero. Le imprese del commercio online danno lavoro a 26.000 addetti concentrati in Lombardia, Lazio e Umbria. Se Roma è prima per le imprese con 1.523 sedi è seguita da Milano e Napoli con 1.283 e Torino con 700 che concentra il maggior numero di addetti quasi 4.000 seguita da Perugia. Imperia è prima per preso degli imprenditori nati all'estero e potenza per presenza di imprese giovani. Insomma il mondo si rivoluziona grazie alla nuova tecnologia che affonda le sue radici nel più ampio spazio della connessione internet e si trova a scambiare prodotti informazioni e punti di vista con gente interessata a un commercio sempre più di qualità raffinato. Un obiettivo che si prefigge anche il Sud Italia e la provincia di Salerno che investono perciò nel settore e puntano ancora una volta sui giovani che hanno voglia di nuovi stimoli e nuove appartenenze. Andiamo ora a Sala Consilina dove sono stati attivati nuovamente i tirocini formativi per gli studenti universitari ciò è frutto di un accordo tra il comune capofila del Vallo di Diano e l'Università degli Studi di Salerno. Con la delibera di giunta comunale del 25 luglio scorso continua l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento promossi dall'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ipsum è stata cioè approvata la nuova convenzione il tirocini è uno strumento con cui è possibile effettuare un periodo di formazione individuale presso un'azienda per favorire lo sviluppo della propria professionalità con l'acquisizione di competenze specifiche attraverso l'affiancamento ai lavoratori dell'azienda ospitante si legge nella premessa del documento la finalità di questo strumento è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei procedimenti formativi i rettori delle università possono cioè stipulare convenzioni con enti pubblici e privati su proposta delle facoltà e dei dipartimenti per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche e integrative di quelle universitare finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale così anche a sala consiglina è stata sottoscritta la convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento proposta dal Dipsum avviata già nel 2016 e adesso rinnovata sono promosse allora tirocini di formazione e di orientamento al lavoro a beneficio di studenti universitari iscritti ai corsi di studio di quel dipartimento anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi presso la biblioteca comunale di sala consiglina consistente in attività strettamente connesse con il funzionamento del principale istituto culturale cittadino della sezione separata d'archivio in essa istituita riturata mutevole a seconda dei progetti formativi preventivamente concordati dalle parti e per un numero di studenti variabile in ragione della disponibilità aziendale e nel rispetto della normativa vigente in materia andiamo a Caggiano dove con apposita ordinanza il primo cittadino ha vietato la vendita di alcolici nel periodo almeno fino al 30 settembre ai giovani under 16 per i trasgressori multe fino a 500 euro a Caggiano il primo cittadino Giovanni Caggiano con apposita ordinanza è sceso in campo per contrastare il fenomeno legato al consumo di bevande alcoliche tra i minori attraverso l'introduzione di maggiori controlli nel periodo estivo per evitare la somministrazione e la vendita e l'accessione anche a titolo gratuito di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 16 anni nei luoghi tradizionali e in occasioni di sagre e feste estendendo il divieto anche alle miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita come si evince dall'ordinanza sono numerose le motivazioni alla base di questa scelta con l'amministrazione comunale pronta anche a sanzionare fino a 500 euro le violazioni e nella misura ridotta fino a 188 euro e 90 inoltre è prevista la sanzione accessoria dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento delle bevande alcoliche somministrate vendute e o cedute in più in caso di recidività il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio commerciale per tre giorni come riporta l'ordinanza le somme ricavate dal pagamento delle pene pecuniarie saranno destinate al finanziamento di interventi ed iniziative tese a valorizzare la prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche che saranno realizzate con apposite indicazioni fornite dal forum dei giovani l'abuso di alcol tra i giovani è un fenomeno dilagante soprattutto tra i più piccoli della prima causa degli incidenti stradali inoltre provoca problemi rilevanti in ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione certamente una scelta coraggiosa da parte del primo cittadino di Caggiano ma non certo sbagliata visto che punta a salvaguardare la crescita sana dei giovani cittadini spostiamoci negli alburni a Laurino uno storno di cicogne nel weekend ha fatto tappa durante l'emigrazione verso sud immortalate postate sui social network hanno vissuto una giornata da protagonista e le cicogne per una tratta quella della loro migrazione che difficilmente appunto è passata negli anni precedenti per Laurino a Laurino nel weekend è andato in scena uno spettacolo della natura unico per il piccolo centro cilentano uno stormo di cicogne vi ha fatto tappa durante la migrazione verso sud nel loro viaggio verso l'Africa dove trascorreranno l'inverno decine di cicogne hanno scelto il piccolo borgo per fermarsi una notte e poi riprendere il lungo e affascinante viaggio durante il volo migratorio che le porterà a svernare a sud del deserto del Sahara hanno regalato ai Laurinesi l'emozione di vederle sorvolare per un intero pomeriggio sui tetti e circunnavigare intorno al campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore a decine sono state immortalate con foto e video dai cittadini che con il naso all'insù ammiravano increduli l'evento a cui avevano la fortuna di assistere subito è partita la catena dei post sui social network a iniziare dal sindaco Romano Gregorio che ha voluto condividere con tutti ciò che stava accadendo infatti anche per l'importante numero di volatili avvistati è stato un evento eccezionale per Laurino tutti sperano ritornino il prossimo anno anche perché si racconta siano di buon auspicio gli esperti spiegano però che molto probabilmente essendo le cicogne abitudinarie non essendo mai passate da quelle parti siano state costrette a fare tappa a Laurino modificando la rotta a causa delle condizioni atmosferiche degli ultimi giorni quale che sia stato il motivo della sosta e a prescindere da un loro ritorno la prossima estate hanno vissuto da assolute protagoniste per un giorno donando ai fortunati Laurinesi emozioni che solo la natura sa dare Andiamo a Salerno dove si è svolta a 36 anni di distanza nel quartiere Torrione la cerimonia in ricordo delle vittime della sanguinosa strage terroristica che si consumò il 26 agosto del 1982 quando ci fu un conflitto a fuoco tra terroristi delle Brigate Rosse alcuni militari dell'esercito italiano e una pattuglia della Polizia di Stato Salerno non dimentica a distanza di 36 anni ancora vivo il ricordo della sanguinosa strage terroristica che si consumò nel pomeriggio del 26 agosto del 1982 nel quartiere di Torrione un conflitto a fuoco tra terroristi delle Brigate Rosse alcuni militari dell'esercito italiano e una pattuglia della Polizia di Stato pesante il bilancio tre morti un militare e due poliziotti l'azione fu pianificata da un reparto del cosiddetto Partito della Guerriglia che si era formato dall'unione fra la colonna napoletana delle Brigate Rosse guidata da Giovanni Senzani e il fronte delle carceri costituito da dissidenti brigadisti staccatisi nell'81 dalle BR all'attentato presero parte 10 terroristi con l'intento di impossessarsi delle armi dei militari i terroristi attaccarono il convoglio dell'esercito costituito da un furgone e una motovettura in trasferimento dalla caserma Cascino alla vicina caserma Angerucci nella quale avrebbe dovuto svolgere l'usuale servizio di guardia durante l'azione fu immediatamente colpito il caporale ventunene Antonio Palumbo che sarebbe morto in ospedale a Napoli il 23 settembre successivo sul luogo accorse una pattuglia della squadra volante della questura di Salerno che si trovava fortuitamente in un bar nei pressi del luogo dell'assalto i poliziotti iniziarono un violento conflitto a fuoco con i terroristi durante il quale perse la vita l'agente Antonio Bandiera di 24 anni mentre l'agente scelto Mario De Marco porto quattro giorni dopo per le gravi ferite riportate nel corso dell'azione rimasero feriti altri due militari un poliziotto due civili e un terrorista i brigadisti comunque riuscirono a impadronisti di quattro fucili Falberetta BM59 e due Garand in dotazione militare ed esercito ebbene il ricordo la memoria di quella pagina triste della storia della Repubblica Italiana in quelli che per sempre rimarranno nella memoria collettiva come gli anni di piombo ancora oggi è vivo e testimoniato dalla cerimonia svoltasi questa mattina presso la piazza dedicata proprio ai caduti di quel vile attentato io sono orgogliosa di lui sono passati anni però ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco seconda parte dell'edizione serale delle Uno News ripartiamo da Teigiano dove la sala convegni della Santissima Pietà era gremita in ogni ordine di posto per l'evento promosso dall'associazione Amo Diano che ha presentato il libro di Vincenzo Andriolo che raccogliendo gli iscritti di Gaetano Delia la cui immagine era ben visibile nella sala ha offerto l'occasione di parlare dell'importanza di conoscere e tutelare il dialetto dei singoli comuni le diverse sfumature che li rendono distintivi della comunità vicine un incontro lungo e altrettanto interessante che ha mantenuto viva l'attenzione della folta platea a corsa ad ascoltare gli illustri relatori introdotti dallo storico Giuseppe D'Amico un libro che oltre a riportare alla luce gli iscritti di Gaetano Delia medico dell'Ottocento inoltre ha analizzato anche la storia ma anche lo stesso dialetto comparandolo in alcuni casi con il vernacolo di altri comuni l'iniziativa dell'associazione Amo Diano preseduta da Maria Rita Risarli ha quindi consentito un'ampia riflessione sulle specificità dialettiche del territorio e tutelare da tutelare e da valorizzare abbiamo ascoltato Rocco Cimino membro dell'associazione Amo Diano che parla dell'evento e dell'importanza di dare valore alla storia e alla tradizione locale noi come associazione cerchiamo di valorizzare tutto quello che è possibile nel nostro paese insomma come tutti i tegianesi siamo visceralmente legati a questo posto ed è importante direi fondamentale riscoprirlo anche attraverso diciamo pubblicazioni come quelle che ci presenta stasera Ammirabile Vincenzo Andriolo perché al di là diciamo della valenza poetica c'è la scoperta di un mondo che è quello di Teggiano di tanti anni fa ma che sembra Teggiano di oggi anche con la vehemenza di questi versi che sono in un certo senso a tratti scurrili anticlericali ma che danno il segno di un impegno civile da parte dell'autore oltre che di un'etica sociale che insomma mi ha molto meravigliato e mi è piacevolmente sorpreso e poi non dimentichiamo che il dialetto è il segno dell'identità di un popolo non solo ma il dialetto racconta la storia di un popolo come ammirabilmente già spiegato la dottoressa del Puente il dialetto è come la matematica nel senso che attraverso la ricostruzione della lingua di un posto si racconta la storia oltre che l'identità socio-culturale di quel posto per cui oggi non si possono demolizzare i tanti dialetti che ci sono nella nostra bella penisola perché sono le nostre lingue madri non dimentichiamo che lo stesso italiano era un dialetto poteva essere oggi la lingua il siciliano se avesse prevalso ai tempi di Dante la lingua romanza siciliana prevalso il fiorentino poteva prevalere il veneziano ecco questa è l'importanza di queste manifestazioni e diamo il nostro ringraziamento sentito a Vincenza Driolo che attraverso due grandi opere il diretto romanzo che è presentato qualche anno fa e questa ci ha restituito un tesoro un piccolo tesoro che noi a nostra volta vogliamo restituire a tutta la comunità tegianese perché è importante per la riscoperta come dire della nostra tegianesità ancora eventi si è chiuso ieri sera il Negro Festival la 23esima edizione che ha avuto come momento clou il concerto dei Modena City Rambles Tra gli applausi di un pubblico caloroso e il divertimento generale si è chiusa la 23esima edizione del Negro Festival l'evento svoltosi nel consueto scenario della piazzale antistante le grotte di Pertosauletta ha richiamato in tanti nella due giorni delle 25 e 26 agosto prima dello spettacolo conclusivo dei Modena City Rambles sul palco l'intervento del sindaco di Pertosa Michele Caggiano che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione ormai da più di 20 anni è collaudato quel gruppo di volontari quel gruppo di giovani che adesso sono meno giovani che hanno tantissima passione che hanno voluto fortemente e ovviamente la regione Campania l'Europa che hanno finanziato con questi progetti il Negro Festival noi abbiamo puntato molto sul territorio chiudiamo con i Modena City Rambles che sono invece una band assolutamente conosciuta anche per quelli della mia della mia età una bella edizione soprattutto all'insegna del ritrovarsi dopo un po' di anni il momento crudi quest'anno è stato il concerto dei Modena City Rambles due ore di spettacolo che ha affascinato e fatto ballare il pubblico nel consueto stile del Negro Festival che si conferma dal punto di vista musicale anche in questa ventitreesima edizione luogo di sperimentazioni e commistioni di generi il gioco è un po' lo stesso bisogna vedere poi le quantità una copertina di richiamo per dare la certezza di una qualità perché poi portare gli artisti importanti non è sempre solo una questione di soldi è una questione di garanzia di affidabilità organizzativa dentro questa copertina di richiamo bisognerebbe immaginare però come abbiamo fatto stasera degli spazi di proposta perché questo è il ruolo del Negro Festival i soldi dell'Europa servono non per cercare il consenso con nomi eclatanti ma avulsi servono a dare occasioni per conoscere esperienze musicali nuove e condividere con la gente del posto con il carciofino piuttosto che con il panino originale e con quello che è l'enogastronomia del territorio compreso una visita alla grotta un bilancio tutto sommato positivo per il Negro 2018 con gli organizzatori pronti a mettersi al lavoro per progettare la 24esima edizione in programma nello stesso periodo il prossimo anno il Negro Festival è pronto a innovarsi pur conservando però le sue storiche radici l'identità è una cosa importante perché poi quando io ho conosciuto questo territorio ho conosciuto un territorio che non si conosceva però 23 anni in qualche modo devono aver sedimentato io qui ho conosciuto e anche molti artisti mi hanno detto che c'è gente che ha un buon orecchio che riesce a distinguere le cose quindi che anche da un punto di vista di critica musicale ha una qualità questo è un buon segno culturalmente Calato il sipario sul Negro Festival 2018 l'appuntamento ora è fissato al prossimo anno ed ora lo sport il calcio è stato un fine settimana all'insegna della Coppa Italia di eccellenza diverse le formazioni salernitane in campo bene la battipagliese il costo d'Amalfi cade il faiano pareggio esterno in casa della Scafatese per il Valdiano il punto nel servizio un gol di Peckened al cinquantesimo regala il pareggio al Valdiano che fa il suo debutto stagionale contro la Scafatese nell'andata del primo turno di Coppa Italia di eccellenza la formazione di Mr. Nastri va sotto nel finale di frazione gol di Scognamiglio poi nella ripresa trova il pari la settimana prossima a campi invertiti si deciderà tutto al Valdiano basta un pareggio a reti bianche per andare avanti nella competizione sfida bella ed entusiasmante grazie alla pastena di Battipaglia dove le zebrette di Mr. Fusco grazie alla doppietta di Munar e al gol di Annese battono 3 a 1 il Solofra e vedono il secondo turno della competizione gli Irpini con il gol di De Rosa conservano qualche speranza di passaggio del turno e si giocheranno tutto per tutto tra sette giorni in casa Rocambolesco 2 a 3 del Castel San Giorgio in casa del Faiano partita ricca di emozioni che vede la formazione bianco-verde uscire sconfitta tra le altre salernitane in campo c'è il costo da Amalfi di Scena in casa delle Clanese i costieri si impongono 3 a 0 doppietta di Mascolo e gol di Marino e salvo rovesci clamorosi hanno il pass in tasca bene anche la polisportiva Santa Maria che batte 2 a 1 la Virtus Avellino gol per i gilentani di Ammendola e romano e con lo sport termina l'edizione serale delle 1 News io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.